Quindi dopo aver analizzato insieme quale sono le teorie sociologiche più importanti e chi sono i maggiori esponenti di quest'ultime andiamo un attimo a dare la definizione di teoria sociologica ovvero per teoria sociologica intendiamo quell'insieme interconnesso di proposizioni che hanno la pretesa di validità generale e che riescono a dare una base sistematica al ricercatore sociale al fine di spiegare il funzionamento dei fenomeni sociali nel presente e cercare di ipotizzare sul futuro beh, risalta all'occhio questa definizione perché è molto semplice però non dobbiamo farci un attimo ingannare dalla semplicità di questa definizione perché quando noi ci riferiamo a quello che è il presente e una possibile ipotizzazione sul futuro dobbiamo un attimo fare un check un check ovvero dobbiamo verificare ciò che stiamo analizzando attraverso la verifica empirica ovvero dobbiamo vedere se quel fenomeno è riscontrabile in un determinato contesto in quel momento di cui ne stiamo parlando e soprattutto se c'è una base che tratta questo argomento infatti in sociologia abbiamo due diversi livelli di analisi la macro sociologia e la micro sociologia da come avrete ben capito perché ho sottolineato all'interno di questa slide della parola stessa i prefissi micro e macro nella sociologia micro sociologia diciamo studia quelle sono le prospettive come l'azione e l'interazione quindi va ad analizzare e predilige come oggetto di studio la quotidianità mentre la macro sociologia si occupa di un insieme molto più onnicomprensivo della società ovvero ha l'obiettivo di studiare le strutture istituzioni e le organizzazioni indipendentemente dal significato che gli viene attribuito dagli individui che ne fanno parte e qui dobbiamo un attimo dare la definizione e ritornare un po' a quello che sono i paradigmi fondanti della sociologia ovvero dobbiamo dare una definizione di funzionalismo il funzionalismo è quindi una corrente che si viene a creare nei primi dell'ottocento a una visione organicistica della società dove all'interno della quale ogni relazione è di tipo funzionale ovvero ogni elemento svolge un particolare compito concorrendo a mantenere l'equilibrio e l'ordine sociale infatti vi è una menzione speciale a ordine sociale perché Emil Durkheim farà e lavorerà per lo sviluppo della teoria dell'anomia come ben saprete forse la teoria dell'anomia è quella teoria particolare all'interno del quale non vi è un rispetto delle norme sociali e quindi potremmo definirla come assenza di norme norme sociali che sono diversi dai precetti giuridici i precetti sociali sono quelle norme consuetudinarie che fanno parte di una determinata società oggetto di studio e infatti le istituzioni sorgono in risposta a questi bisogni come vedremo nella slide successiva andremo a parlare di strutturalismo e lì capiremo bene cosa sono le strutture sociali e qual è il processo di istituzionalizzazione quindi il funzionalismo vede in tre grandi studiosi la propria nascita tra cui Emil Durkheim come vi ho citato prima Wilfredo Pareto che farà degli enormi studi e cercherà di dare un primo abbozzo su quella che è il funzionamento della psicologia dell'individuo all'interno della società e poi verrà ripreso in modo sistematico da Gustave Le Bon nel suo famosissimo libro uno dei più famosi che si chiama intitolato Psicologia delle folle Herbert Spencer che insieme a Emil Durkheim andrà a lavorare e cercheranno di dare questa visione organicistica della società quindi funzionalismo viene un attimo poi ripreso nella prima metà del novecento all'interno del quale Merton e Parsons danno quindi una nuova interpretazione alla teoria funzionalista che la più importante viene proprio elaborata da Parsons attraverso quello che poi verrà chiamato struttural funzionalismo lo struttural funzionalismo mantiene il concetto di struttura strutturalista e vede però quindi anche la funzione ovvero vi è la struttura che è la connessione fra le parti e l'interno della società e la funzione ha quelle conseguenze che portano a interagire queste parti fra di loro e deduce da questo tipo di ragionamento un sistema che assolve quattro funzioni che corrispondono alla condizione necessaria che sono chiamati anche imperativi funzionali per l'esistenza e la persistenza nel tempo del sistema stesso e va a lavorare quello che è comunemente chiamato con l'appellativo di Agile modello Agile di tal Court Parsons infatti vediamo nella slide che in blu sono sottolineate colorate anzi le funzioni mentre in verde abbiamo l'istituzione che rappresenta quella funzione e successivamente abbiamo il bisogno in rosso che è il bisogno che viene assolto dall'istituzione e quindi abbiamo il sistema adaptation ovvero l'adattamento che è il sottosistema economico che ha come fine la produzione delle risorse economiche successivamente abbiamo il goal attainment ovvero detto anche soltanto goal che è il sottosistema politico che regolamenta la ridistribuzione delle risorse nel terzo abbiamo il sistema legale o detto anche integration che comprende tutto quel sistema di law enforcement agency che hanno il compito di far rispettare le leggi e l'attuazione delle norme sociali e dei precetti istituzionali e quindi anche delle norme giuridiche infatti per law enforcement agency intendiamo tutte le forze di polizia e le forze giuridiche infatti nel terzo abbiamo la dimensione di analisi su cui Talcott Parsons si focalizza in modo molto più approfondito successivamente andremo ad analizzare quello che è praticamente un suo concepimento di processo di socializzazione infatti elabora nel sottosistema agency eh sì scusatemi latency il processo di socializzazione primario secondario primary and secondary socialization agency ovvero la trasmissione dei valori socialmente condivisi attraverso dei processi primari e secondari il processo primario viene comunemente indicato con l'istituzione della famiglia e successivamente dove l'individuo si crea dove viene creato il proprio mondo culturale e sociale e viene inoltrato verso l'approccio alla società mentre nella socializzazione secondaria viene rappresentata l'istituzione della scuola e della religione ovvero quella che ha il compito di insegnare all'individuo come ci si rapporta all'interno della società e quali sono le norme sociali comuni per una comune convivenza scusatemi doppio la ripetizione e quindi dopo aver un attimo analizzato che cos'è una teoria sociologica e qual è diciamo una delle teorie sociologiche più importanti oltre al funzionalismo ovvero quella di struttura del funzionalismo che poi darà una visione nuova una visione diversa da quella che è stata tutta la sociologia premoderna ovvero antecedente all'epoca post capitalista del novecento interno del quale si formano queste democrazie liberal democrazie vi è un accentuato processo di secolarizzazione e quindi vi è una razionalizzazione di quello che è il mondo e la funzione del mondo che cambia radicalmente infatti quello che Talcott Parsons poi alla fine cercherà anche di fare in uno dei suoi scritti più importanti del 1951 Toward of General Theory of Action quello di dare una nuova definizione dell'azione sociale che già prima Max Weber aveva dato e cerca un attimino di fare il punto di fare una ricostruzione di quello che è un ambito molto delicato nell'analisi sociologica ovvero la cultura la cultura che poi diventerà una diciamo uno spartiacque che è stato uno spartiacque per tutto quel tempo diventerà un qualcosa di ambiguo è sempre stato un qualcosa di molto incerto in sociologia e Talcott Parsons proprio in questo scritto del 1951 tenterà e cercherà insieme addirittura ad un antropologo Schiltz di ridefinire quello che è il concetto di cultura in sociologia e qual è l'oggetto di studio per la sociologia nell'analisi della cultura poi da lì verranno fuori diverse correnti sociologiche tra cui sociologia dei processi culturali e sociologia della cultura e quindi è molto importante riuscire a capire perché Talcott Parsons elabora questo struttural funzionalismo ora andiamo un attimo a osservare a vedere qual è diciamo l'altro l'altra l'altro componente abbiamo visto che cos'è il funzionalismo adesso andiamo a vedere qual è che cos'è lo strutturalismo che poi darà diciamo sulla scia di questa interpretazione di società e di organizzazione sociale darà spunto a nuove forme di analisi e correnti culturali sociologiche grazie a tutti grazie a tutti